Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi mi trovo davanti a voi per raccontare un evento che ha profondamente scosso la tranquillità di Cicciano, una piccola località non lontana dalle vivaci strade di Napoli. Nella notte di Sanremo che sembrava come tante altre, è stata tragicamente segnata dalla perdita di un giovane. A soli 22 anni, la sua esistenza è stata bruscamente interrotta a causa di un incidente stradale avvenuto su Via Tavernanova. Una Fiat 500, guidata da un altro abitante del posto, si è trovata al centro di questa tragica vicenda. Al momento, gli investigatori stanno ancora cercando di fare luce sulle cause che hanno portato a questo fatale esito. Questo drammatico evento non ha solo strappato Maurizio Napolitano alla sua comunità, ma ha lasciato anche due persone ferite, il conducente e un passeggero, entrambi originari di Cicciano, che attualmente si trovano in gravi condizioni presso l'ospedale di Nola. La comunità di Cicciano, insieme all'associazione sportiva del luogo con cui Maurizio aveva stretto un legame profondo, è stata colpita duramente da questa perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.